Bruno Gröning. Io voglio solamente aiutare e guarire. La vita di Bruno Gröning. Per bambini, giovani e adulti. Capitolo VI. Dalla padella alla brace. Già dal tempo di Herford, il grande obiettivo di Bruno Gröning era quello di costruire delle case di cura. Case nelle quali avere modo di operare con ordine e di far ricevere la guarigione ai bisognosi d'aiuto indisturbati. I medici avrebbero dovuto effettuare, come era avvenuto ad Heidelberg, le visite e gli esami prima e dopo, controllare le guarigioni e documentare i risultati. Bruno Gröning ricevette molte proposte per costruire queste case di cura. Da tutte le parti arrivavano persone disposte ad aiutarlo o che volevano mettergli a disposizione delle case. Purtroppo fu ben presto chiaro che la maggior parte di loro speravano solamente in un buon guadagno. Molto spesso si trattava di ristoranti, hotel o pensioni che, attraverso il famoso ospite, avrebbero fatto il tutto esaurito e riempito le casse. A Bruno Gröning o ai poveri infermi quasi nessuno pensava. Un collaboratore speciale fu Meckelburg, originario dell'isola di Bangeroge, nel mare del nord, uomo d'affari che in quel periodo si avvicinò a lui e, più tardi, divenne il suo manager. Arrivò in Baviera accompagnato dalla moglie per chiedere a Bruno Gröning il suo aiuto. Sua moglie era gravemente malata e i due viaggiavano rincorrendo Bruno Gröning ma arrivavano sempre in ritardo. Dovunque arrivassero, Bruno Gröning era già partito. Ma nonostante ciò, la signora Meckelburg fu guarita ancora prima di incontrare Bruno Gröning personalmente. Come ringraziamento, il signor Meckelburg voleva aiutare Gröning presentandogli progetti concreti per la costruzione di case di cura. Bruno Gröning accettò e, verso la fine del 1949, andarono insieme a Bangeroge. Qui, come anche sulle isole vicine e sulla terraferma, Meckelburg organizzò molte conferenze per Bruno Gröning. Gröning parlava e nuovamente avvennero innumerevoli guarigioni. Tu sei guarita Antie Janssen aveva cinque anni quando incontrò Bruno Gröning sull'isola di Bangeroge. Sua madre l'aveva portata con sé, poiché la piccola Antie soffriva di una forma acuta di eczema. Si grattava così forte le braccia fino a farle sanguinare e la notte non riusciva quasi a dormire. Per la sera fu annunciata una conferenza nel cinema del posto. Parteciparono molte persone. Antie Janssen ricorda così. La sala era gremita di gente, anche persone sulle sedie a rotelle, e alcuni entravano zoppicando con le loro stampelle. Sedevamo su dei seggiolini pieghevoli e aspettavamo, ma Bruno Gröning non arrivava. Io mi addormentai sulle ginocchia di mia madre. Solamente verso mezzanotte arrivò Bruno Gröning e disse agli invalidi di salire da lui sul palco, cosa che fecero sebbene ci fossero dei gradini da salire. Misero le stampelle da una parte e si disposero in cerchio intorno a lui. Mia madre era delusa di non potere anche lei salire sul palco e allora mi prese e mi fece salire con lei. Tutti si scandalizzarono. Io mi vergognai e per me fu alquanto umiliante allorché mia madre mi scoprì le braccia davanti a Bruno Gröning e gliele mostrò. Nessun bambino voleva allora toccarmi, talmente brutti erano da vedere le mie ferite. Bruno Gröning sembrava molto grande per me che era una bambina di cinque anni. Si piegò su di me, passò le sue mani, ma senza toccarle, sulle mie braccia come accarezzandole e disse «Tu sei guarita». E a mia madre egli disse «Vada a casa e fra quattordici giorni si faccia fare un certificato dal suo medico». Poi partimmo ed io dormì un giorno ed una notte intera senza grattarmi una sola volta. Oggi si vedono ancora solo le cicatrici e sono rimasta sana fino ad oggi. Ci furono anche altre guarigioni. Sentì di un bambino dell'asilo, con le stampelle che si trovava fuori. Bruno Gröning lo chiamò dalla finestra. «Vieni su da me». «Ma non posso con le stampelle», rispose il ragazzo. Bruno Gröning esclamò «Allora buttali via». Il ragazzo le buttò via, percorse il corridoio, attraversò la sala, salì i gradini fino a lui. L'affarista Otto Meckelburg Bruno Gröning regalò ad Otto Meckelburg la sua piena fiducia e si mise a sua completa disposizione. Si impegnò ad appoggiarlo in tutto e di fare tutto ciò che gli sarebbe stato possibile affinché i progetti di Meckelburg andassero in porto. Inoltre promise di lavorare esclusivamente con Otto Meckelburg e con nessun altro. In un contratto venne anche sottoscritto che Bruno Gröning avrebbe potuto fare solamente ciò che Meckelburg voleva. Nel gennaio 1950 Meckelburg fondò la «Associazione per lo studio dei metodi di cura» di Gröning. Lui stesso ne divenne il direttore, con uno stipendio mensile di mille marchi tedeschi. Per quei tempi si trattava di moltissimi soldi. Bruno Gröning non ricevette nulla. Molto presto ci si rese conto che per Meckelburg era indifferente cosa Bruno Gröning volesse e quali fossero i suoi obiettivi. Nemmeno gli ammalati, che si radunavano sempre numerosi intorno a Bruno Gröning, gli interessavano. Meckelburg vedeva nel medico prodigioso solamente una fonte di guadagno e lo soprannominò ironicamente come «il miglior cavallo che avesse nella stalla». Con le clausole del contratto lui vincolò a sé Bruno Gröning, che fu costretto così a fare ciò che lui richiedeva. Meckelburg guadagnò molti soldi in quel periodo, ma non creò mai le case di cura promesse. Più tardi, in un processo, lui affermò «Personalmente non avevo alcun interesse per le case di cura». Quando finalmente Bruno Gröning, nel giugno del 1950, riuscì a staccarsi dall'ex comandante dei campi di concentramento, Meckelburg, il suo buon nome era rovinato dalle cattive pratiche del suo manager. Ma Meckelburg gli giurò vendetta. «Groning, lo farò a pezzi, gli romperò tutte le ossa». Scoprire l'imbroglio Dopo la fase di Meckelburg, Bruno Gröning lavorò per alcuni mesi insieme al naturopata di Monaco di Baviera, Eugen Enderlin. Enderlin aveva ricevuto al Traberhof una guarigione e fece la proposta a Bruno Gröning di tenere delle conferenze a casa sua. Anche qui avvennero molte guarigioni, come ricorda Grete Häusle. Anch'io avevo letto nel 1949 di tutto il bene e delle cose prodigiose che Bruno Gröning faceva, nonostante ciò espressi dei giudizi sprezzanti sul suo conto, e ancor peggio avevo giudicato lui ed il suo agire affibbiandogli dei brutti titoli, poiché credevo fosse tutto un imbroglio. Se fosse stato per me non sarei mai andata da lui, poiché non credevo in qualcosa di divino. Solamente perché la mia amica cieca aveva bisogno di qualcuno che l'accompagnasse e non trovava nessun altro, la aiutai. Così arrivai con lei a Monaco e vogli partecipare anch'io alla conferenza, solamente per convincermi. Volevo poter spiegare alla mia amica di che imbroglio si trattasse, in modo che potesse impiegare i suoi soldi in altra maniera. Molto scettica, ascoltai con le orecchie tese l'introduzione alla conferenza del signor Enderlin, e mi venne un senso di disgusto quando lui ci invitò a pregare silenziosamente. Io non ci riuscivo, non credevo a niente. Non pensavo nemmeno che sarei mai potuta guarire, ma quando ci invitò a pensare a qualcosa di bello, potevo e volevo seguire la sua richiesta. E quando pensai al bel lago di Wörth, che il giorno prima avevo ammirato durante il sorgere del sole, allora incominciarono a formicolarmi le dita dei piedi. Questo formicolio salì fino al collo e dentro la testa. Sentì dei dolori alla testa, nel centro, una tensione lungo le braccia fino alla punta delle dita. Subito pensai a delle lampade al quarzo che qualcuno segretamente avesse installato, ma non ne vidi nessuna nella stanza. Non riuscivo a spiegarmi come si potesse sentire tutto ciò senza aver fatto nessuna iniezione o preso medicine. Poi il signor Enderlin ci spiegò in modo molto bello come Bruno Gröning fosse il trasformatore dell'energia divina e Dio la grande centrale energetica. Bruno Gröning non era ancora presente come poteva funzionare, ma fui costretta a credere volente o nolente che c'era qualcosa, qualcosa che noi uomini non conoscevamo più. Quando poi il signor Enderlin disse che dipendeva da ciascuno di noi se saremmo usciti da lì guariti o meno, allora mi feci tutto orecchie, pensai fra me, non sarebbe male, ma non può essere, no, non esiste. Come poteva scomparire la mia sinusite di 15 anni con catarro cronico, semplicemente scomparire, no. Oppure le cellule distrutte del mio fegato, oppure come è possibile avere di nuovo sufficiente zucchero nel sangue, non sarebbe male se fosse così semplice. Allora mi ravvidi, qualcosa di vero ci deve essere in tutta questa storia, se no non avrei avuto questi dolori e questa tensione nel mio corpo. Uscire oggi guarita non sarebbe male, ma non esiste qualcosa di simile. Il treno l'ha portata qui. Quando il signor Gröning arrivò, i miei dolori divennero insopportabilmente forti. Non potevo più rimanere seduta. Riconobbi istintivamente, dopo cinque minuti, che quest'uomo davanti a me sapeva e poteva più di ogni altro uomo. Dopo circa un'ora, venne verso di me e mi chiese, come è venuta a Monaco? Io risposi con il treno, no, impossibile, io non posso, replicò lui. Non capì il nesso, poi riconobbi improvvisamente che le sue parole erano le mie, quelle che quattordici giorni prima, in casa Kenten, avevo detto a mia madre quando le lessi la lettera della mia amica. No, impossibile, io non posso. l'avrei dovuta accompagnare a Monaco il 28 agosto da Gröning. Ero spaventatissima che Bruno Gröning sapesse tutto quello che avevo detto a mia madre, soprattutto le imprecazioni sul suo conto. realizzai così che non sapeva solo questo, ma tutto di me e della mia vita mi vergognai in modo indescrivibile. Mi guardò amabilmente perdonandomi. lei non è venuta con il treno, ma il treno l'ha portata qui. Così seppi che mi aveva perdonato tutto. Il gioco di parole, il treno l'ha portata qui, lo capì molto più tardi. Io non volevo andare da lui, ma ne ho avuta la possibilità. Poi più tardi Bruno Gröning diventò molto serio e concentrato e ci disse Nuovamente fui colta da alcune strane sensazioni. Chi è costui per poter dire queste cose? Di una cosa sola ero certa. In tutta la mia vita non avevo ancora ricevuto da nessuno una tale proposta e mi rendevo anche conto che per tutto il resto della mia vita futura non avrei mai più incontrato nessuno che mi avrebbe fatto un'offerta simile. Dunque, mi si presentava in quel momento una possibilità unica in tutta la mia vita e ora la volevo. Ma come? Non avevo idea di come potessi dargli la mia sinusite cronica, il mio fegato distrutto ed il mio pancreas che produceva troppo poco zucchero. Davvero, non sapevo come avrei dovuto fare e siccome non mi restava altra possibilità feci come fa un bambino. pensai, ecco, qui ora hai le mie tre malattie incurabili ed anche la mia mamma incurabile. Ecco, qui hai tutta la mia infelicità e tutto ciò che va storto nella mia vita. Io non lo voglio più avere. E nello stesso momento me ne liberai. I dolori delle reggelungen continuarono intensi e alla fine della conferenza Bruno Gröning ci disse che dovevamo fare l'Einstellen ogni giorno per ricevere lo Heistrom. L'energia positiva poiché ogni persona attraverso il pensiero, la parola e il lavoro consuma energia. Questa energia viene ricaricata attraverso l'Einstellen anche quando si sta bene per rimanere sani e in buona salute. Questo vale ancora di più se non si è completamente sani affinché ci si riempia di buona energia che possa scacciare il male. Poi Bruno Gröning ci salutò. Non ringraziate me ma Dio. rimanemmo ancora un po' lì poiché volevamo chiedergli se potevamo ritornare ancora una volta. Quando tutte le persone avevano già lasciato la sala io e la mia amica eravamo ancora là sedute. Notai che non avevo più mal di testa né tensione né formicolì né dolori. Che non avevo più niente se non una stupenda la sensazione di leggerezza come se avessi perduto cinquanta chili di pesantezza e di stanchezza. Fu invasa da una gioia immensa come non avevo mai conosciuto prima dissi alla mia amica Maria io sono guarita e lei rispose disarmata tu sei matta ma io replicai Maria ciò che io sento ora nel mio corpo non può essere altro che la salute. in quel mentre entrò Bruno Gröning nella sala gli corsi incontro e gli strinsi la mano dicendo la ringrazio signor Gröning io ora mi sento completamente sana. Lui mi scrutò profondamente si rallegrò molto e poi replicò lei non solo si sente sana lei lo è ma non ringrazi me bensì Dio lui lo ha fatto. Enormi incassi Anche Enderlin si rivelò un affarista nemmeno a lui interessava aiutare ma piuttosto guadagnare il più possibile al fianco di Gröning. Il destino di Bruno Gröning o quello degli ammalati non interessava nemmeno a lui. Enderlin promise di rilasciare un documento ufficiale che dimostrasse che l'operare di Bruno Gröning non aveva niente a che fare con l'attività dei naturopati protetti dalla legge in modo che Bruno Gröning non venisse in conflitto con la legge stessa e il divieto di guarire contro di lui non fosse così giustificato. In questo modo Bruno Gröning avrebbe avuto la strada spianata per una libera attività. Lui stesso scrisse una volta su questa opportunità Questa promessa non è stata mantenuta dal signor Enderlin. In compenso ha incassato forti somme di denaro di cui non ho ricevuto nemmeno un centesimo e più tardi con questo ricavato poté comprarsi una villa a Feldafing e arredarla tutta. Verso la fine del 1950 Bruno Gröning si separò anche da Enderlin. Un nuovo tentativo di collaborazione fra il 1952 e 1953 fallì per gli stessi motivi. Anche questa volta Enderlin aveva in testa solamente i propri interessi. Imbroglioni tollerati Continuamente arrivavano persone da Bruno Gröning che promettevano di aiutarlo nella costruzione della sua opera. La maggior parte di loro però era solamente interessata a guadagnare attraverso di lui più denaro possibile. Così per esempio fece anche l'ingegnere di Hereford il signor Hultzman che lo aveva ospitato. Anche lui era diventato col tempo uno zelante affarista. Pareva che Bruno Gröning attirasse questo genere di uomini da fare come la luce attira le tarme. Continuamente gli giravano intorno continuamente infangavano il suo buon nome e la sua reputazione. Quando non riuscivano a raggiungere i loro scopi o lui si separava da loro allora tentavano di estorcergli denaro o di rovinarlo in altri modi. Perché Bruno Gröning lasciava continuamente avvicinare a sé questi collaboratori? Perché la sua scelta ricadeva sempre su di loro? Perché non riusciva a tenerli lontano da lui? In una conferenza del 31 agosto 1950 a Monaco ne spiegò i motivi. Che cosa non hanno escogitato le persone per poter trarre profitto dalla conoscenza e dalla potenza di questo piccolo uomo? Credevano di aver trovato una miniera d'oro in parte hanno anche avuto la possibilità di guadagnare soldi ma non ne hanno tratto grazie a Dio alcun vantaggio. Ci dovevano essere anche questo tipo di uomini perché era necessario mettere in luce che l'uomo è senza scrupoli e non si domanda se l'ammalato viene aiutato o meno. Ci sono uomini che non hanno scrupoli e che possono lasciare tranquillamente un sofferente giacere a terra e passare oltre. Questo genere di persone non lo ha mai chiesto ma ha tentato di tutto per restare al mio fianco. Lo so che qua e là ci si domanda se quest'uomo sa così tanto come mai non ha saputo questo? Probabilmente non sa niente. Se e quanto io so di una cosa lo verrete a sapere piano piano. Ma questo doveva succedere. Questo materiale mancava per completare questa struttura per liberare a voi tutti la strada. Dunque Bruno Gröning ha avuto bisogno di queste persone per poter liberare nuovamente il cammino verso Dio. Voleva e doveva svelare questo genere di sanguisughe senza scrupoli comprometterle affinché gli uomini potessero riconoscere la loro cattiveria. Doveva una volta per tutte strappare a questi furfanti senza cuore la maschera dai loro volti. In passato c'erano sempre state belle parole con le quali tali affaristi avevano illuso i propri simili mascherando le loro vere intenzioni e nascondendo i loro smodati interessi. Sempre con le stesse belle parole noi vogliamo aiutare ma le azioni erano cattive sfruttare i sofferenti ed arricchirsi senza scrupoli. Bruno Gröning pose fine a tutto ciò lasciò che questi uomini si avvicinassero a lui per poter smascherare i loro atti vergognosi. Quando una volta Grete Hoisla congedandosi da lui gli augurò di non rivolgersi più in futuro a falsi collaboratori lui rispose completamente sbagliato deve essere così io so che cosa un uomo ha nel proprio cuore ma se io dicessi alla gente questo è un bugiardo questo è un imbroglione un ladro allora non mi crederebbe nessuno che cosa devo fare? Devo attirare a me queste persone e insegnare loro il bene smuoverli verso il cambiamento e poi dare loro l'opportunità di essere bugiarde di imbrogliare e di rubare se nonostante ciò lo fanno ancora allora ciascuno saprà chi sono poi li lascia avvicinare e poiché non sono un vile allora li combatto l'umanità in futuro si libererà da questo genere di uomini d'affari e non si lascerà più abbindolare e deludere dalle loro belle parole le loro malvagie macchinazioni non potranno più interrompere il collegamento con Dio questo Bruno Gröning lo dovette amaramente portare a compimento